Questa medaglia ha significato tantissimo per noi perché è da sempre che ci abbiamo creduto adesso è da un anno che è in piedi questo fan club e ha avuto molto riscontro, molti fans, simpatizzanti quindi una medaglia a livello olimpionico è veramente tantissimo per noi, le emozioni che ci ha regalato è stato qualcosa di magnifico, speriamo che continui così, adesso mancano le ultime gare in Coppa del Mondo e noi saremo sempre presenti per tifarla e portare avanti tutto il supporto che riusciamo a fare